Qui a suggellare la futura alleanza anche a Messina con Fli? Non futuro, noi siamo il presente, il terzo polo è già una realtà in Italia, lo sta diventando anche qui in Sicilia e quindi Messina fa parte della Sicilia, mi sembra un fatto scontato. Però in questo momento Messina appoggia un'aggiunta che è con il PDL? Per la verità tutti siamo stati eletti in uno scenario diverso da quello che si sta costruendo e costruiremo un progetto politico che quando verranno le elezioni sottoporremo agli elettori. È una soddisfazione però per l'Udc questa nuova posizione di Fini? Non è un problema di soddisfazione o meno, la politica è fatta di contenuti, di analisi e di proposte e mi sembra che la convergenza su questo progetto alternativo di una personalità come il Presidente Fini non possa che rafforzare quell'idea di una politica diversa di cui l'Italia ha bisogno. È previsto un suo intervento adesso, cosa dirà? Un'anticipazione? Non ho idea, è un saluto, non credo di poter far perdere tempo agli altri.